Sono sette i comuni della provincia nissena che hanno scelto i sindaci che li amministreranno per i prossimi cinque anni. A Niscemi vince al primo turno il candidato di centrodestra Massimiliano Valentino Conti, sostenuto da quattro liste che hanno ottenuto complessivamente 8.817 voti per una percentuale del 64%. L'affluenza ha raggiunto una percentuale del 55,5%. Plebiscito a Campofranco per Rosario Nuara, sostenuto dalle liste uniti per Campofranco e Nuara sindaco che ha ottenuto una percentuale dell'87,5% con 1.372 voti complessivi. L'affluenza a Campofranco è stata del 53,7% degli elettori. Il nuovo sindaco di Butera è Giovanni Zuccalà con la lista civica e il futuro è adesso. Percentuale bulgara per il neoeletto sindaco che ha ottenuto 1.619 voti con oltre il 60% delle preferenze. A Butera si è recato alle urne il 48,1% dei cittadini. A Marianopoli Salvatore Noto ha mantenuto la poltrona di sindaco, totalizzando 623 voti per una percentuale del 55,7%. A Marianopoli si è recato alle urne il 55,1% degli aventi diritto al voto. Sommatino ha scelto Salvatore Letizia come nuovo sindaco, sostenuto dalle liste Sommatino Sei Tu e Totoletizia Sindaco, con 1.567 voti complessivi per una percentuale del 39,1%. A Sommatino ha votato il 39,2% degli aventi diritto. A Resultano è stato rieletto sindaco Rosario Carapezza al suo terzo mandato consecutivo, con 744 preferenze che gli hanno assicurato una percentuale del 55,11%. L'affluenza alle urne si è attestata al 53,3%. Terzo mandato anche per il sindaco di Acquaviva Platani, Salvatore Caruso, che ha ottenuto 436 voti per una percentuale complessiva del 77,9%. Acquaviva è il comune in cui si è registrata l'affluenza più bassa di elettori alle urne, che si è attestata al 19%.